Buongiorno Fiorellini, buongiorno, come va? Fate bene? E come mi trovate interessante con questo look alla Trotsky? Assomiglia un po' a Trotsky, sapete chi era Trotsky, no? Lo fecero fuori poi in Messico, i suoi stessi ex compagni, questa va bene, è una storia. Lo trovarono in Messico e mi pare che ci fu uno con il martello che glielo piantò in testa. Povero Trotsky. Bene, a parte Trotsky, vi volevo aggiornare sul mio stato di salute, ecco perché. Vi sapete, voi sapete che mi sono rotto tre costole, ma insomma sono guarito. Quanto mi ci ho voluto? Beh, ve lo dico subito, quasi un mese. perché esattamente domani, domani sarà esattamente un mese che non sono rotto. Quindi diciamo che da una settimana che sto molto meglio, diciamo dalle tre settimane alle quattro settimane. All things must pass, tutte le cose devono passare prima o poi, no? E per rimanere in questo ambito ospedaliero, volevo arramentarvi che oggi mi sono fatto la terza dose. Ho visto che c'ero, ho fatto anche l'anti-influenzale, che è una forma di prevenzione che molti devo dire trascurano. Invece non è che voglio fare il medico a tutti i costi, ma insomma bisognerebbe fare l'anti-influenzale, è importante, è importantissima. Quindi, diciamo, ho fatto la terza dose, l'anti-influenzale. Ciononostante continuano ancora le discussioni televisive allucinanti dei Novoaxi, dei quali, ma chissà come giudicano, non so, Fleming, Sabin, Liotto Schweitzer, ricordate di Liotto Schweitzer, grande organista che andò a curare le brose in Africa, o Pasteur, che fece il siero antirabbico, fossero vissuti ai tempi di Pasteur in Novoaxi, si sarebbero fatti mordere volentieri dal cagnolino, dal molosso, e sarebbero rimasti tremando su un letto tutta la vita. Insomma, non è questo momento di insistere più di tanto, perché tanto è un po' come una religione, essere Novoaxi, un po' come per un cattolico essere convinto che ci sia lo Spirito Santo, la Colomba, eccetera. E quindi anche il Novoax militante, non so, per il momento non c'è da fare. Vabbè, speriamo che cambi idea. Nel frattempo appunto vi manderò questa mia foto mentre mi pungo. E' arrivata in questo momento mia moglie che sta girando con un casco, con un pericoloso motorino. Per il momento vedo che è ancora illesa. Bene. Stiamo incartando gli ultimi regali e vi faccio un augurio di Buon Natale, sperando che voi state tutti bene. Ok? Ciao cari amici, poi parleremo nei prossimi giorni e parleremo un po' di musica. Ok? La musica e le canzoni di Natale. Tra cui eccelle sicuramente. And so this is Christmas. And what have you done? Eh? Grazie John. Vi voglio bene, buona giornata. Vi voglio bene, buona giornata. Grazie a tutti per iline.